Non è euroscetticismo questo, non voglio Europa dei tagli, c'è qualcuno che pensa che l'Europa debba tornare quella prima del Covid. Mi rifiuto di pensare che l'Europa torni a quella prima del Covid, non è euroscetticismo questo, non voglio il ritorno all'Europa dei tagli. Voglio che l'Italia sia protagonista in Europa e gli interessi di Draghi e di Salvini su questo convergono. Amici di tutti, schiavi di nessuno. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un convegno sulla giustizia al Palazzo delle Stelline. Grazie.